Brasigliano forse è la paese simbolo della campagna che frana qui si è consumata infatti la tragedia di una giovane madre Emanuela Izzo e dei suoi tre figlioletti uccisi da un fiume di fango solo paura solo panico terrore gente che scappava gridava già si pensava che fosse successo qualcosa di grave la signora lei la conosceva si la conosceva i suoi bambini e anche i suoi bambini